di passaggio da trento prima di raggiungere il ritiro della nazionale a pesaro simone come stai sto bene sto bene sono contento per come andata la vesuvio cup a napoli abbiamo disputato due partite belle contro due squadre due nazionali forti come il giappone argentina sono stati due test importanti che ci hanno fatto vedere a che punto siamo siamo a un buon punto però dobbiamo ancora far tanto e migliorare ancora tanto adesso sono di passaggio qui e oggi raggiungerò gli altri a pesaro ritiro a pesaro e per poi iniziare insomma il weekend con la war league inevitabilmente nelle ultime due partite gli occhi dei tifosi della trentino volley erano molto suddita e su vettori per vedere come procede la vostra intesa non vi dovete sicuramente conoscere perché avete già giocato tanto in nazionale però insomma vettori è stato costantemente il miglior marcatore dell'italia in queste due partite un bel segnale si sia un bel segnale pian piano anche lì cerchiamo di trovare l'intesa la palla giusta non è una cosa immediata da un po che non giochiamo insieme però siamo subito siamo molto disponibili uno con l'altro però più che io vettori insomma tutta la squadra viene da dire quindi continuare a narci sodo per per riuscire poi a ottenere dei bei risultati mercato della trentino volley ha già regalato tre buoni colpi oltre a quello di vettori anche quello del brasiliano eder e dello sloveno centrale sloveno koza mernic cosa ne pensi sì sì no sono sì si vede che a trentino volley continua a voler fare bene e quindi questo questi due acquisti lo dimostrano ecco quindi sono contento non li conosco insomma li conosco solo di nome ecco ed era vinto ahimè le olimpiadi e quindi sarà sicuramente un centrale d'esperienza che ci darà una mano a tutti noi giovani poi ci sarà l'opportunità di rivederlo in campo proprio a pesaro contro voi domenica perché ci sarà italia brasile già un bel test in vista del vostro futuro in questa competizione sì 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 è un test non lo è più perché comunque inizia a essere partite che contano quindi sarà una partita difficile contro il che comunque sappiamo che è molto forte noi però insomma senza paura andiamo lì e mettiamo tutto quello che abbiamo dentro buona estate ci rivediamo presto grazie anche a voi ciao